Ciao da Vittorio, nella vita ci sono tre certezze, le tasse, la morte e Pepe Reina che prende gol sul suo valo. Ciao a tutti da Vittorio, oggi torniamo a parlare un po' di Lazio-Genoa, una partita che ci ha fatto soffrire un po' tutti. Però tutto sommato sono arrivati tre punti importantissimi e la Lazio ha giocato 70 minuti alla grande, bisogna essere onesti, 70 minuti veramente di ottimo calcio. Ci sono tante osservazioni da fare in questa partita, direi il fatto che a maggio, quando la fatica si inizia a sentire, quando la stanchezza impatta le squadre, la Lazio sembra sia in grande forma. Il punto secondo me più importante è che, nel momento forse più importante della stagione, Ciro Immobile, Tuku Correa, Luis Alberto, Minko Isavic, ovvero i quattro campioni, i quattro giocatori più forti, quelli che fanno la differenza nella Lazio, sono tutti in forma eccezionale. Abbiamo avuto Luis Alberto con l'appendicite, con qualche problema fisico, Correa che non segnava mai, Immobile che sembrava si fosse perso, Minko Isavic affaticato, beh, direi che nelle ultime due partite contro Milan e Genoa abbiamo visto questi quattro giocatori prendere per mano la Lazio e fare la differenza in campo. Mi piace soffermarmi su Tuku Correa, che su questo canale abbiamo spesso criticato, tra virgolette, io ho sempre detto il talento dell'argentino non si discute, il giocatore ha una velocità impressionante, una tecnica impressionante, quello che gli manca è il killer instinct, quello di trasformare le tante azioni che crea in gol. Sembra che adesso ci stia riuscendo, ovvio, è anche un fattore psicologico, quando inizi a segnare prendi fiducia e tutto viene più facile, è anche vero che quando sei in fiducia anche la fortuna ti sorride, perché il primo gol di Correa è sicuramente fortunato, però è fortunato perché lui mette il piede, lui si sente in fiducia, mette il piede, convinto che il giocatore della Genoa gli tiri la palla addosso. Anche il secondo gol è bellissimo, Perin ci arriva, fa un mezzo miracolo, però la palla entra lo stesso. Insomma, Correa sembra, come pensavo ieri, che lo spirito di Beppe Signori sia entrato nel corpo del Tuku Correa, perché Signori era infallibile e Correa sta diventando infallibile. Un altro punto importante è che Luisa Alberto ha registrato secondo assist, seconda partita consecutiva, secondo assist. Non ne aveva fatto nessuno in tutta la Serie A, in tutta la stagione, quest'anno, adesso, nelle ultime due partite, siamo già a due assist. E Luisa Alberto ha fatto anche un bellissimo gol e, come dico sempre, Mikoy Savic secondo me è più forte di Luisa Alberto, però quando gira Luisa Alberto gira la Lazio. E ovviamente il punto terminale, diciamo, della Lazio è Ciro Immobile. Quando Ciro Immobile è in forma, la Lazio diventa pericolosa. Perché? Perché non solo Immobile segna, ma Immobile crea azioni pericolose, vedi Ricore che poi ha trasformato, ma, a differenza degli altri attaccanti, Immobile, degli altri centravanti, Immobile è anche un giocatore generoso. Guardate gli assist che ha fatto in stagione. E quindi, se Immobile c'è, non solo segna, ma fa segnare gli altri ed è un altro fattore importante. E poi, per ultimo, Milinkovic Savic, perché magari è meno appariscente del solito, però Milinkovic Savic adesso è un centrocampista completo. Un paio di anni fa era, secondo me, quasi un trequartista, una seconda punta vicino alla porta, Milinkovic Savic sa essere letale. Adesso è un centrocampista completo. Si è sacrificato per la Lazio, fa un ruolo più difensivo, permettendo così a Luisa Alberto di essere più libero di andare avanti, però, allo stesso tempo, garantisce una copertura importante. Dal punto di vista del giocatore, Milinkovic Savic è un giocatore più completo adesso di un anno fa e riesce comunque a dare tanta qualità. A mio avviso, una delle differenze di Lazio Genova, anche di Lazio Milan, è che la qualità del centrocampo della Lazio è di un altro livello. A mio avviso, quando Luisa Alberto, Milinkovic Savic stanno bene, il centrocampo della Lazio è il più forte d'Italia, anche più forte dell'Inter. E il fatto che adesso stiano giocando così è sicuramente un fattore molto importante. A questo aggiungiamo Lazzari, che quest'anno ha fatto un campionato eccezionale. Lulic, che non è che stia facendo delle cose fenomenali, ma sicuramente migliorato rispetto a tempo fa, quando Lulic sembrava in grande difficoltà. Lukas Leiva, quando è uscito, la Lazio si è trovata in grande difficoltà. Leiva, a mio avviso, è importante perché è quello che sa leggere la partita e sa dove mettersi per impedire alla squadra avversaria, in questo caso il Genoa, di rendersi pericoloso. Per questo, secondo me, la Lazio ha il centrocampo più forte d'Italia. Il Napoli, secondo me, ha tanta qualità, ma non è un centrocampo omogeneo, non è così completo come quello della Lazio. E questo, secondo me, è la vera differenza, è il vero motivo per cui la Lazio sta ancora in corsa per la Champions. Perché il Lus Alberto, il Minicu i Savic, Correa e Immobile possono decidere e farti vincere in qualsiasi partita. Come, secondo me, Cristiano Ronaldo, nonostante l'età, sia l'uomo decisivo nella Juve. E nella Juve, secondo me, sono pochi. E il Ronaldo, Di Bala, ma Di Bala è un po' in difficoltà, nella Lazio ce ne sono quattro dei giocatori. Questo non vuol dire che andiamo in Champions sicuro. Però è sicuramente un fattore importante che siano pronti adesso. L'altra cosa di cui dobbiamo discutere è che la Lazio ha preso tre gol contro il Genoa. Tre gol, tutti e tre evitabili, perché il primo è una leggerezza di Lulic, il secondo è una leggerezza di Cataldi, il terzo è un errore di Reina. Tre errori individuali, quindi non è che dobbiamo dire che la difesa della Lazio è scarsa. Questo non significa che la Lazio non deve comprare due difensori centrali, io lo ripeterò fino all'inizio del campionato prossimo. Ma tre errori individuali, questa volta, stavano decidendo la partita. Lulic sul primo gol non può farsi superare così facilmente, Reina secondo me la poteva uscire ad anticipare l'attaccante del Genoa. Sul secondo Cataldi fa una follia incredibile e sul terzo Reina prende sempre gol sul primo palo. Qualcuno ha detto che era un tiro imprendibile, sta in Serie A, almeno ci deve arrivare. Secondo me non era così forte come per esempio contro il Napoli. Era un tiro abbastanza centrale sul primo palo, ormai lo sanno tutti, andate a rivedere l'azione. Prima che quello tira, Reina si è già tuffato dall'altra parte e così diventa troppo facile. Però ripeto, non è che la difesa della Lazio ha sbagliato. Ci sono stati tre errori individuali. E questo, per sottolineare come Wesley Hurt, che ripeto, non sarà mai Paolo Maldini o Alessandro Nesta, però ieri non ha giocato male. Ieri Hurt ha fatto una buona partita. Ha fatto solo un errore, un passaggio nel secondo tempo arretrato un po' troppo corto, però a parte quello, la partita di Wesley Hurt è stata buona. E' anche vero che giocava contro Genoa. E quindi, torniamo al discorso di prima, non parliamo di Alessandro Nesta. Se Hurt gioca contro Genoa, io sono abbastanza tranquillo. Se Hurt gioca contro la Juve, beh, le cose cambiano. Anche se quest'anno la Juve non è sicuramente uno squadrone. Però, diciamo che Hurt può essere una buona riserva, ma, ma, se vuoi lottare per la Champions League, devi prendere due difensori titolari forti. Perché dico due? Perché purtroppo stiamo vedendo che Luis Felipe è fortissimo, secondo me, però ti salta troppe partite. E in un campionato così complicato, con così tante partite, non puoi avere sempre la difesa in situazione di emergenza. L'esterno, il braccetto di destra della Lazio, è sempre una riserva. Perché Luis Felipe non è quasi mai disponibile. Ecco, al posto di Luis Felipe ci serve un titolare che può giocare al posto di Luis Felipe. E poi ce ne serve un altro, perché Radu sta facendo benissimo, ma lui e Acerbi hanno superato i 30 e non so quanta continuità possono dare negli anni a seguire. Per questo, secondo me, la Lazio deve andare sul mercato e prendere due difensori centrali. Detto questo, la prova della Lazio è sicuramente incoraggiante per 70 minuti e poi quei tre errori hanno rischiato di compromettere tutto, come è successo, per esempio, in Udinese. Questo è il mio giudizio sulla partita. Voi che ne dite, scrivetelo nel commento qua sotto. Mi raccomando, se vi piace il video, mettete mi piace e se non siete ancora iscritti, fatelo subito. E se mi volete sostenere, abbonatevi al canale. Ciao! 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 Grazie a tutti.